Ciao ragazze! Allora, scusatemi le condizioni, ma ho deciso di registrarvi, siccome so che vi era piaciuto tanto il video della serie mi preparo con voi perché stamattina devo girare un paio di video quello All Slick e quello che mi avete richiesto in tantissime sulla nuova casa e quindi ho deciso di prepararmi con voi Allora ragazzi, cosa vi racconto? Allora, sapete che ho fatto, chi di voi mi segue, ho fatto la curva glicemica per vedere se avevo problemi di diabete insomma la glicemia nel sangue per vedere come vanno le cose e tutto va bene e va tutto bene il tatino cresce bene, lo sento ogni giorno di più, sono due giorni, ieri e oggi che continuo a scalciare e il dottore mi ha detto che è un bel toretto e viva! E non poteva essere altrimenti no, ditemi voi, secondo voi poteva essere altrimenti insomma dai ragazzi va tutto bene, speriamo continui così tra l'altro ginecologo mi ha dato da prendere anche delle vitamine non so magari qualcuno di voi che è mamma e l'ha preso ditemi se è successo anche a voi, si chiama Probenat non sono delle medicine, sono degli integratori alimentari che cacchio sto dicendo, sono delle vitamine Probenat 200 mi pare beh ragazze, io ogni volta che mangio, che ingoio sta pastiglia la mattina finita la colazione sto malissimo, ieri mattina ho vomitato e quindi stamattina non l'ho presa o già magari ditemi se è successo anche a voi, così mi do un attimo una regolata e capisco cosa fare anche perché voglio dire, non è un medicinale, sono delle semplici vitamine però non capisco perché a me fanno questo effetto qua insomma adesso procedo con un correttore più chiaro, uso questo qua di mix e lo metto qua su tutta la zona per illuminarla ecco ragazze il momento del parto si sta avvicinando mancano 90 giorni più o meno anzi meno che più e comincio ad avere un po' di fifa ho cominciato anche il corso aspettate perché io non sono in grado di fare due cose contemporaneamente e quindi se parlo non produco ecco perché questi video qua non li faccio spesso il mio povero cervelletto una cosa alla volta riesce a fare e cosa che vi stavo dicendo si è iniziato a fare il corso preparto ho fatto solo una lezione e credo di averne messo un po' troppo abbiamo fatto solo la prima lezione dove si parla un po' del parto rilassamento che ragazza non è mica una cosa semplice è rilassarsi soprattutto per me ma praticamente mi insegnano un attimo a dare respirazione non so mi devo mettere serie a fare sta cosa perché mi sono sentita un attimo una scema quando mi dicevano non senti più le gambe e le cose da anche perché quel giorno cioè se non mi concentro quel giorno ragazzi aiuta mamma mamma no ma io no no io credo che mi farò anestetizzare negesizzare c'è troppo a FIFA no ragazzi ma vi pensate ma ultimamente io e Manuel abbiamo iniziato a guardare video su YouTube tra l'altro vi metterò qui sotto nell'info box ho iniziato a seguire questo papà che ha messo i video del suo tatino da quando era piccolo appena nato e quando ci cambiava il pannolino insomma abbiamo iniziato a guardare sti video di genitori che cambiano i pannolini e poi ovviamente siamo finiti sul parto che su YouTube ce ne sono parecchi da vedere ah mamma ragazze io spero di fare come la mia mamma che 5 minuti me tra i minuti mia sorella fate tutto travaglio zero se andate premature tutte e due se andate tutte e due in 8 mesi però come potete vedere dalla stazza almeno io ho recuperato bene ecco se mi metto un po' della mia dorata fixa e matto sotto qua e finché mi sistema le sopracciglia penso a cosa fare su questi occhi allora oggi non riesco ben capire se ho voglia di fare una cosa pesantina o una righetta così proprio boh vediamo un po' sto utilizzando ragazzi mi piace tantissimo stamattina che mi ha mandato una ragazza mandilina di Catrice è stupenda è un morbidino eccole è morbidina però me ne son presa un'altra perché mi piace talmente tanto dovrò sistemarmi anche queste sopracciglia poi ragazzi io volevo chiedere una cosa qualcuno di voi allora ieri sera mi sono guardate il video di mi sono guardata qualche video e ho visto che Sweet Beauty 1990 ha messo in paglio anzi non lei l'azienda che gliel'ha inviati ha messo in paglio un set di pennelli di Sedona Lace il vertigo vintigo vertigo non mi ricordo come si chiama solo che ho guardato poi sul sito costa la bellezza di 79 79 dollari e 90 mi sembra quindi c'è anche il rischio poi di dogana o sbaglio se qualcuno di voi magari fate l'ordine sul sito di Sedona Lace avete comprato qualcosa fatemi che schifo fatemi sapere se avete avuto problemi con la dogana in quanto tempo vi è arrivato il tutto insomma questo coso di pennelli mi ispirava parecchio e dunque cosa stavo dicendo mi ispirava parecchio solo che appunto 79 euro banane 79 dollari e 90 più spese di spedizione e poi c'è il rischio della dogana quindi non so se il gioco vale la candela insomma fatemi sapere voi con un commentino qui sotto e aspettate che vado avanti se no ragazze per intanto ho deciso di fare una roba una roba un trucco leggero anche perché poi ti metto sugli occhiali quindi non ha neanche senso cos'è che vi stavo dicendo allora se no ragazze qualcuno di allora un'altra ragazza che seguo Gloria Fair insomma le ho chiesto dove si trova un set dove posso trovare quel pennello bello a ventaglio grosso che c'è adesso che tra l'altro ho chiesto che mia mia mi ha detto che lei l'ha trovato dai cinesi però i cinesi che abbiamo qua noi sono sfigati nel senso che non c'è c'è poco niente insomma e oh dio ai ah e Gloria appunto mi ha detto che lei ha preso quelli della fraule 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 38 mi sembra sia il set bambù può essere una cosa del genere non mi sto confondendo con quelli di zoeva comunque sta fraule fraule c'è il set di pennelli dove c'è questo qua a ventaglio voglio sapere se qualcuno di voi ce l'ha l'ha provato e lo sta usando e mi dice come si trova intanto utilizzo quella qua la la palette questa qua mega pennellazza da contouring io lo utilizzo per opacizzare perché il tempo è danaro bellissimo e insomma niente se qualcuno di voi ha qualche notizia in merito a queste due cose fatemi sapere che poi no ecco un'altra cosa di cui volevo parlare per capire cosa ne pensate non ma lo dico adesso io prima di aprire il canale mio che tra l'altro è un anno è più di un anno ormai che l'ho aperto però col trasloco e cose non ho avuto non ho fatto nemmeno un giveaway infatti ho messo da parte due o tre prodottini proprio di quelli sgrausi sgrausi ho messo da parte due o tre prodottini a breve vi farò un giveaway in attesa di uno più sostanzioso insomma e cosa vi stavo dicendo e oddio ma perché non mi ricordo mai quello che stavo dicendo ah eh sì ecco è quello che vi volevo chiedere voi cosa ne pensate no allora io ho un canale mio ok però prima di avere il canale mio ero cioè ecco come tutte voi seguivo e seguo tuttora varie varie youtube ma e voi cosa ne pensate se una ragazza tipo meno che ha un canale youtube partecipa al giveaway nel senso vi da fastidio questa cosa non so perché mi faccio remora anche c'è dici che c'è i tuoi c'è il tuo canale c'è il tuo canale dove comunque fai vedere recensioni di prodotti non so neanch'io ma boh non so insomma avete capito qual è la mia remora un po' basta sfigata che boh però cioè al fine voglio dire siamo siamo come voi o no cosa ne pensate ah ecco vedete perché io devo fare una cosa alla volta se no mi faccio male poi vi faccio vedere i prodotti che ho usato i colori che ho usato mamma quanto è bello sto colore che tra l'altro sono scema perché potevo usare il pigmento nuovo di slick che devo ancora provarlo visto che dopo ve lo faccio vedere ma non tanto mi piace sto colore è bellissimo è un grigio un marrone top non boh oggi mono monocolore adesso facciamo una righezza di liner allora spero che vi faccio vedere cosa ho usato allora ho utilizzato questo colore qua che è quello appunto che vi dicevo che mi piace tanto e questo rosetta qua i nomi sono ciao i nomi sono south quello quello marroncino e illusion l'altro quindi questa pellettina allora eyeliner abbiamo detto anzi ragazzi prima dell'eyline faccio una riga di 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 marrone sia sopra che nella parte finale inferiore che adesso la vado a sfumare bene ragazze cosa vi chiedo allora io volevo chiedere vacanze che fate dannate non mi sa ragazze che non ci muoveremo per niente perché a parte il fatto che non so quando manuera rimarrà a casa se rimarrà a casa se lavora se non lavora cosa fa perché lavorando lavorando da un proprio insomma lavorano soprattutto quando le ditte sono chiuse e quindi boh e cosa che vi stavo chiedendo vi volevo chiedere sì voi deve andate noi non credo ci muoveremo anche perché poi ad agosto se dovessi avere un parto prematuro come è stato per mia mamma sarei un po a rischio insomma e quindi non credo ci muoveremo magari se riusciamo andremo via qualche giorno sempre al lago come l'anno scorso anche perché i soldini ci servono per comprare i panno e lozzi di di alessandro mamma ragazzi c'è un sacco di roba da comprare vestitini ne ho un pochi ma anche perché no poi aspettate un attimo allora mandato un foglietto mi hanno dato un foglietto del corso lì dove c'è scritto cosa bisogna preparare per per quando sembra in ospedale per il bambino e quant'altro allora nel foglietto c'è scritto c'è scritto c'è scritto che per il periodo autunno inverno e intanto bisogna portarvi a 5 completini non capisco il motivo perché voglio dire cosa ti tengono in ospedale due giorni un giorno non lo so se fai parte normale quando ti tengono dentro insomma va bene ci sono portare questi 5 completini ed è per appunto il periodo autunnale invernale che sarebbe poi appunto settembre quando dovrebbe nascere alessandro devo avere 5 completini e bisogna comprare queste canottiere a manica lunga lana cotone però fai una fatica schifosa a trovarle io ho chiesto a una mia amica che è lo mio che ha un anno lei ha detto che c'è il bambino è nato a dicembre ha preso dei semplici bodi di cotone dei semplici bodi di cotone a manica lunga perché tanto poi sopra c'è il coprifasce e anche tutte quelle cose la che servono quindi mamme l'ascolto io faccio la rubrica di ari di una gravidanza ma sono più i consigli che vi chiedo di quelli che vi do ma ve li darò dopo quando è inutile che vi dia consigli adesso ve li darò dopo che magari so qualcosa ecco questo è quanto quindi mamme l'ascolto aiuto voi come avete fatto ma magari poi cambia anche da ulse a ulse voglio dire allora se avete visto il video di pupa dove giorgio forlani fogliani non mi ricordo vi spiega come mettere il mascara alla perfezione allora io non so come fa lui ma se chiude l'occhio mi smerdo mi pastroccio tutta lui dice appoggi appoggi il pennello il lo scovolino alla base delle ciglia fai chiudere l'occhio la modella zig zag vabbè sapete che ancora non so se sto pupa vampa non mi piace non mi piace questo qua il 200 quello marrone boh non riesco a capire se mi piace non mi piace a parte che verso sera si sgretola tutto il mio mi fa prurito boh ma tutti e due perché ho anche quello nero bene il trucco occhi è finito vado avanti con il resto ci piace no avete visto quante rughe sto invecchiando allora tolgo gli eccessi di cipri amici sotto fa e adesso vediamo le cipre da partito per fissare utilizzo sempre la spugnetta studio video sarà lungo tipo una giornata tampono ma rendite di tante che non si sono trovate bene con questa cipria non è sinceramente non dispiace ma io non so solo controcorrente c'è 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 di meglio ok però me non fa schifo per 3 euro la moneta allora se vi state chiedendo perché ho i piercing da umbilico nell'orecchio mi spiego subito allora l'anno metto la mia cura un po di controllo di conturi allora io anni che curano ho fatto il piercing all'ombelico solamente che purtroppo da ragazza fortunato quale sono ho fatto rigetto ma ovviamente io avevo già comprato una serie infinita di piercing per l'ombelico insomma quando sono andata dal allora ho fatto rigetto perché boh perché ho disinfettato sono andato in un posto veramente serio che è anche quello dove ho fatto il tatuaggio nel piede lascia metto questo qua in perle diavolo e sono andata appunto in questo posto a fare il piercing ho disinfettato tutto quanto non so se il rigetto è dovuto è stato dovuto al fatto che il cane dei miei vicini una bellissima pastora tedesca mi è saltata addosso che appunto avevo fatto da poco il piercing e da lì ho cominciato a fare infezione per giocare poverina lei per giocare mi è saltata addosso e da lì ho cominciato a fare infezione e insomma l'ho perso e sono tornata nel negozio mi ha detto guarda che può essere che lo rifai rispendi 40 euro che hai speso e ti rigetta un'altra volta e siccome mi è rimasto una cicatrice bruttissima che tra l'altro adesso con la gravidanza che l'ombelico sta uscendo si vede ancora di più ho deciso di lasciar perdere solo che ho appunto tutti sti bellissimi cosi colorati che non mi va di lasciare la e quindi io li uso come orecchini l'arte del riciclo mettiamo il gloss sembra della palette è bellissima sta classe bene allora il trucco è finito mi sistemo un attimo i capelli e inizio a girare gli altri video vi faccio vedere la panza che mi chiedete sempre aiuto guardate che profilo ah no mamma mia ragazza è sempre più grossa allora ragazze il video è finalmente finito spero vi sia oddio vi sia piaciuto e nulla adesso girerò appunto gli altri due video e noi ci vediamo prestissimo ciao 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 ciao